Buonasera amici, buonasera, Post Italia Galles, sempre ospite di Zio Fabio, Italia 1-0, gol di Pessina. Abbiamo fatto un allenamento, niente di eccezionale. E infatti si diceva anche, si facevano i calcoli sul fatto della convenienza di passare primo, di passare secondo. Ci stava questa cosa, la prospettiva di evitare forse le squadre più forti in futuro, però noi non possiamo fare queste considerazioni. E' stato anche benevoli nei confronti del Galles che prendendo un solo gol ha fatto il secondo posto. Esatto, si è qualificato. Adesso noi andiamo a prendere penso l'Austria o l'Ucraina, giusto? Andiamo a giocare a Wembley. Eh, a Wembley, andiamo a Wembley, stadio glorioso e poi dopo il tabellone ci regalerà una squadra certamente di primo livello. Probabilmente a Francia. Francia o Francia o Francia o Francia? Un barbillmente a Francia. Vabbè ma io lo dico questa, l'attivato è, perché saranno i altri, sono le quarti di finale e poi le semifinale quindi è normale che il cerchio si stringe come dice e quindi bene bene o male. Per vincere devi affrontare le forti. Deve affrontare le forti, le forti le forti le deve affrontare tutte fino alla finale quindi è tutto sarà tutta partita unica ecco questa è la cosa importante, ci sarà la partita unica è la partita secca adesso si sono fatto tutti questi calcoli proprio perché ci sta per il girone basta prima basta secondo eccetera eccetera e come l'hai visto questa partita hanno giocato molte allora 8 diciamo non si serve c'è 8 di quelle che non avevano giocato perché 8 titolari di serve titolare di serve chi ti è piaciuto di più insomma berratti per me è il mio idolo perché quando la pallona ai piedi non gliela toglie è di un ordine eccezionale verrati su tutti e dati su tutte poi la difesa non abbiamo niente da dire sulla difesa perché senza voto senza voto senza voto che non abbiamo preso noi siamo stati sfortunati abbiamo preso un palo non mi è piaciuto molto bernardeschi e bernardeschi infatti infatti io facevo questa riflessione prima della partita che io avrei portato politano al posto di di bernardeschi insomma poi per il resto belotti aveva notte se l'eserciata vada bene ma tutto sommato è andata bene diciamo è stato un allenamento proprio perché dovevamo affrontarla questa parte però diciamo senza dare quelle emozioni sia bene non c'era la tensione della qualificazione va una parola su bastone il nostro bastone 22 anni bastoni è un grande difensore e sarà per i prossimi dieci anni il terzino sinistro dell'italia quindi un patrimonio dell'italia e dell'inter quindi quindi insomma ce lo dobbiamo tenere ben stretto ormai è un patrimonio non è in vendita no no assolutamente noi dell'inter faremo probabilmente il sacrificio di hachimi ma ma poi e vabbè quindi l'italia tutto a posto quindi per il momento non ci sono ancora festeggiamenti in giro perché siamo alla qualificazione adesso il cerchio si stringe e vedremo al dunque e speriamo bene abbiamo tutte le carte in regola giusto abbiamo tutte le carte in regola per fare bene e dobbiamo fare bene perché l'unico europeo che abbiamo vinto è nel 68 l'unico di conseguenza pensa che dopo 50 anni qualcosa dobbiamo vincere in Europa veramente speriamo speriamo sarebbe una bella soddisfazione ma una squadra che ha vinto quattro mondiali non può vincere sull'Europa no ma sarebbe una bella soddisfazione pure perché veniamo fuori da tutto questo periodo di difficoltà insomma sarebbe una bella soddisfazione pure per la nazione per l'italia per noi stessi per tutto per il calcio italiano abbiamo visto di nuovo l'agenda allo stadio una bella immagine la cosa più bella la gente allo stadio anche se in danimarsi in un carri abbiamo visto uno stadio pieno zeppo quindi adesso infatti scusa chrisman ha detto che loro hanno pareggiato perché non erano più abituati a giocare con uno stadio pieno sembrava qualche ma scuso ma effettivamente ha dato un'emozione diversa ma si dice sempre che il dodicesimo uomo in campo e c'eravamo quasi dimenticati quindi man mano questa sorta di normalità sta tornando anche nel calcio e speriamo bene quindi l'appuntamento per sabato sera sabato sera e speriamo bene non diciamo niente diciamo sempre forza italia forza italia ci vediamo a Wembley ciao a tutti buona serata